basa mamma mia sono scoppiato ho una belle forchette sgargianti che dite con il mio outfit sempre molto elegante e sciatto perché mi devo far riconoscere dappertutto se no se io mi comincio a ghindare e quando mi riconoscete più dopo perdo il mio bel fascino da magnatore seriale sempre pancia ignorante pericolo costante arrivo io poi regà proprio non ce n'è per nessuno anzio vicoletti proprio al centro andiamo qua perché mi ha stuzzicato l'idea di portarvi a un posto perché io sento già più di qualcuno che mi dice che belle magnate che stai a rifinire ma dove stai a rifinire regà ma che fate fare uno rifinito allora oggi voglio mettere proprio pace su sta discordia che sta scelta e queste cose che voglio portare alla spaghetteria io spero di mangiare un piatto di pasta alla portata dell'assaggiatore come vi piace a voi come vi piace a voi perché lo so che voi mi dite sempre ma si dupili allora speriamo io dico senti entro dico senti io faccio mangiare perché non ne avevamo più spaghetteria andiamo a vedere che questa cosa mi sta intrigando un pochetto senti il colorino io ho fame Mastro eccolo io ho una fame che tu manco di immagini hai scelto il posto giusto ho scelto il posto giusto è perfetto per te spara subito che mi proponi amo pasta la rotta di collo sto a vedere spesso vede belle paste nel menù vedi prevede 200 grammi di pasta acqua caffè dolce tutto a 13 euro poi se vuoi se 4 special che ci sta proprio il mondo pure i cristiani ci stanno vedo 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 io leggo 16 euro che mi fai salta? e si che sta già la carbonara e calco la che io non fai la carbonara la carbonara? faccio un tanto per te ce la penso io lo sai che sta a fare la carbonara si? mi devi fare un carbonarone eh ce la penso io hai scelto il posto giusto te l'ho detto allora io mi metto a sede e mi affido a te fammi mangiare oh noi siamo arrivati a fame qua eh mica siamo arrivati a ghiacchia ah Mastro una cosa Mastro una cosa urgente e poi ti lascio lavorare senti ma non è che mi fai mangiare solo la carbonara però no no io ti faccio mangiare quello che ti pare tanto ti faccio la carbonara e allora scegliete un altro primo un altri due quello che ti pare e ti preparo pure quell'altro la pazza come sta? e capirai sempre in tiro ecco qua almeno vediamo se gli è basta fresca frate vieni volevi mangiare? ma io eh sconfia ma portiamo a due a due bello non hai curiosità così quanti vietti sono? ti ho buttato 450 grammi e scalerati eh beccate sto messo un filo di carbonara io faccio 200 grammi però per te che ci fai per 200 grammi? allora ecco questo lo voglio di subito ragazzi e poi cominciamo a mangiare per questa fredda la porzione qua di menù sono 200 grammi qualsiasi tipo di pasta ma se venite a trovare questo amico da qua gli dovete fare voglio la porzione dell'assaggiatore che è questa perché qua si mangia forte e mica si chiacchiera così ce la fanno eh ma non lo so ma tu ce la fai? io ce la faccio tu capirai io la prendo io se il short tempo me la prendo con calma per me non passa una passeggiata capirai ora cominciamo buon appetito raga buon appetito oggi siamo carichi con la panca siamo venuti guarda ora raga quando uno dice c'è il segreto della felicità c'è sta è il segreto per essere felice lo sai che è raga quello proprio che non deve mancare mai mangia sempre quando vi pare come vi pare ma soprattutto raga si quadri perché questi sono pitture uovo su tela lo capirai guarda che roba ti è mica sto andando a corsa oggi mica una challenge capirai questa me la gusto e me la assaporo pasta cotta giusta classico carbonara sui mezze maniche su bel rigatone rigato aggrappa bene tutta la cremosità dell'uovo tutto il condimento e il sapore questo tu fa senti tutto a 360 gradi mi piace la cottura del guanciale perché tanti purtroppo quando tu cuoci il guanciale a fiamma altissima succede che il guanciale ti fa la finta croccantezza ma non è croccante è disidratato ti capitano i serci in bocca poi i serci tra parentesi per chi ne è di roma so i sassi e breccole proprio si chiamano qua questo guancialetto è stato cotto bene sicuramente anche chiuso in padella con coperchio a fiamma bassa non portato sulla croccantezza ma cotto da paura perché è morbido c'è un pezzo tosto o bruciato vedete com'è sto guancialetto morbido morbido e soprattutto non hai i versi lunghi così che sinceramente regà non capita che servono ma non servono la cottura dell'uovo rigorosamente fuori padella non ci stanno i crumi io vi dico che sto pure così è stato mantecato giusto non c'è stata la traccia minima defrittata e un pecorino questo è un pecorino è molto morbido e fresco non c'è questa assagionatura altissima che diventa proprio salatissimo è molto gradevole sinceramente regà l'avete vista tantissimo le carbonara siamo andati addirittura a assaggiarla a Milano ma dobbiamo dare a Cesare che crede Cesare questo ragazzo qua Valentino da Cacio e Pepe ci ha fatto una signora carbonara molto veramente ragazzi veramente molto 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 buona se siete così temerali come quelli che ho visto io fino adesso gli chiedete a Valentino ci fai la porzione dell'assaggiatore ma dovete essere temerali eh siamo tutti buoni un chilo di qua un chilo di là in alternativa ragazzi della porzione assaggiatore troverete anche la porzione che non è 50 grammi di semolina al san camillo insomma sono belli 200 grammi di pasta e la qualità ragazzi è veramente ottima cioè ma raga questo si che è veramente buona poi voglio dire ad agosto siamo tutti buoni a mangiare la pasta fredda l'insalata di riso e l'anguria shakerata con la porzione che metti a mangiare 40 gradi in piatta di carbonara portata poi vedi come ho perso le calcolate te colori pure d'arancione te colori buona raga ma mai che dici? non dico non dico fratea perché è buona vedo che pia raga non ti sta a spegnere sto piatto eh è sempre illuminato perché i colori sono belli eh ma guarda che giallo che è proprio una palla di sole ti guarda che roba arriva arriva tutto a posto tutto bene guarda continua a riempire la panza perché da come vedete è ancora un po' sgonfitta eh quasi mi stacca l'arseno ora mi devo mettere il reggipetto senti fratea una cosa visto che te vedo tranquillo no che mo tu dici mo io ho fatto il suo piatto bene o male mi aggrado l'intestino ne prepari un'altra cosa di due la porzione quella originale un piatto di porzione originale perché voglio far vedere la porzione assaggiatore a loro e la porzione reale che li attende quando ti verranno a trovare che te faccio io fai tu vai a sorpresa ma aspetta vai 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 ma fai tu vedere ma questo se pensavo che sacca va così beata a lui più al forcone del piede no io il colesterolo non lo temo per niente vi ricordate il collega mio quello che sta sempre a mangiare io non voglio un quadro perché ce l'ho qua vicino già sta a rompere i coglioni con questa forchetta ma gli spezzo con le mani voglio vedere ma mangia così mangia come sta a fare ma che no ma che finisci ma no ma non finisci mi dico se non finisci aca levasse le mani aca dalle aca la cosa non c'entra la cosa non c'entra un horcate non c'entra o non c'entra ah è un pazzo aca la mano raffa la mano ce l'hai E' una brutta persona con questa la maniella affamata E che fanno questo? Se lo maniamo, tiè! Chi va piano, va sano e va lontano, sempre! E non ce l'ho fatta, perdonami Ma come ce l'hai fatta? Eh, ma non c'ho più posto per vedere che... E' un po' di attimo E' un po' di attimo, è piano piano Ah, ho capito! Non è andato a finire la pasta Qua sono tutta sua, tutta qua E' rimasta tutta a quant'è? Mi ricordi che era buona, ti è piaciuta? No, no, ma buona è buona Non ti posso dire niente, l'ho detto da me, non ti posso dire niente Però ho lasciato questi tre, lo sai perché? Perché voglio assaggiare altri tre, quelli che stai a fare Altri treetti, però Altri treetti, eh certo! Altri treetti, sì, non altri treetti, quindi che ce l'ha fatto? Buona, 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 guarda Sì, ti ho puntato uno spaghetto alla chicarra Se fanno una sonata La posta che l'ho montato io Ah, bravo! Guarda se ti può piacere, aroma mia Roma mia, aspetta che gliela la dico a loro Spaghetto alla chitarra con ragù, pancetta, funghi, paghino e parmigiano Quello ci ha aggiunto pure i tubiselli Eppure i tubiselli che quelli sciacquano, sgrassano e ne fanno mai male Sei bravo, fratello? Ma buona, la crema è buona No, la crema c'è E' rimasta pure quella crema, la crema è assorbita No, no, ma si è freddata E' rimasta ancora, guarda Ancora la cremettina che è giardata, guarda che roba, via Aspetti, vai fratello Questi sono i classici 200 grammi Ah, fresca Noi prima abbiamo cazzareggiato ragazzi, non mi ha fatto Te porto tanti tretti, però è questa 200 grammi, sono quelli che vi aspettano Se venite qua da Caccia e Pese Ecco qual'è la porzione Sto po' sto profumo terreno Mi avevamo aperto da due mesi e mezzo Siamo aperto Due mesi e mezzo, la regala E fra poco, poi la pulizia pure è ordinante No, no, guarda Bello pulito e poi mi piace questa cosa di non tanti tavoli Perché così è pure una cosa molto gestibile Certo, una cosa in pratica lì, curata Noi ci teniamo alla cura, comunque sia alla qualità Teniamo un po' tutto Sperita la pasta Ci stanno i dolcetti sempre preparati Fatti al momento Non c'è niente di precotto Né i dolci E né i condimenti Solo i ragù che faccio ogni due giorni Perché ci vanno le quattro anni che fassi Ok Ok, ok, ok Questo pure, ovviamente il suo colpa chieno Un'altra 3.000 cose dentro È fatto al momento, è per forza Non tassi al giorno diretto e te lo dico pure Con me 3M, anzi anche 4 Rafforzativo Guarda che ve lo faccio in diretta Ve lo faccio questo Questa è tanta roba raga Duetti con tutto questo condimento Che piatto che può essere Cioè sento Io me la mangio con 30 secondi Mannaggia, lo voglio vedere Ve voglio proprio da vedere, guarda Posso dire che Valentino ci tiene parecchio Oltre che nella qualità, nella quantità Cioè proprio Questo piatto ti dice Tiè, a me non mi puoi dire Che mi ha tremato la mano E non ci ho messo niente Questo è un piatto che ti ha passato A trippa Lo puoi far mettere 4 spade sul letto Così Soltanese sia Ah sì, che qua, vedi che? Voglio fare una cosa con te va Tiè Viè qua, viè con me Fammi un brindisi Hai aperto da poco? Questo è il gesto più bello del buon augurio Oh, bocca al lupo allora La nostra Cin cin, cin cin frate Non dico che il condimento non ci lo metti Questo non si può dire Bella, una bella pasta Un bello spaghetto alla chitarra Lo sapete come si fanno i spaghetti da chitarra? Sì? Perché si chiamano spaghetti da chitarra? Voi lo sapete? Io lo so Scrivetelo su tutti i commenti Oh, ora voglio vedere Ora vedete che non va portato Androce stanno i piatti ignoranti Schizziamo L'ho schizzato No Mettete bucchiari Sennò che schizzo in trallocchi qua questa cosa Paglino Che dà quel tono di freschezza Ho messo l'aggiunta dei piselli Che secondo me ha fatto benissimo Perché piselli, funghi e pancetta Insieme si sposano da paura Secondo me Un classico intramontabile E soprattutto, regà Un ragù Fatto bene Bello Tirato Un bel quadro pieno e ricco di colori E vedete, regà Che buono A me Mi piace È fresca È ricca È gustosa È piena di Dei sapori Si sposa tutto bene Ma sto spaghettino Perché io sto proprio avanti Sto spaghettino, regà Se troviamo da cacio e pepà Avvia sportello Nei vicoli Centrali Proprio di anzio Questo piatto Regato ai duetti Viene 16 euro Con un menù Compreso di Acqua, caffè E dolce della casa E questo ragazzi È la parte special La carbonara Che me son magnato prima Non è 4,5 euro Per voi Va attaccate Cioè se li volete Vi richiedete E vi danno È la porzione base Normale Dei 200 grammi Come questa Ma con lo stesso menù Viene 13 euro Invece i menù Normali classici Tipo la carbonara Che me son preso prima Ragazzi Che sta nei menù Quelli normali Classici Viene 13 euro Sempre acqua Dolce E caffè E Due tite passa Sempre due tite Poi se volete Guarda l'assaggiatore Venite qua e dici Valentino Ho visto il video Di quel cicciore Senti Ma fa pure a me 450 grammi Vai temerari Ancora Ma che è gusto Però eh No a dicembre Che stiamo tutti Corvermi solidari Perché fa freddo A battere i miei bro Che riesce a fare la carbonara Con questo calco Adesso Io ti devo dire Che mi hai stupito Oggi mi hai fatto Un carbonarone Da paura Mi hai fatto Sta pasta Credo che comunque C'è sta gente Che ti viene a trovare Se sta sparge bene la voce Se sta sparge Abbiamo parecchio Passaparola Sono due mesi e mezzo Ma va bene Diciamo che va bene Regà Quindi Poco tempo Comunque tanto via vai Vuol dire che l'amico nostro Se sta a far conoscere Il modo più giusto In assoluto Noi lo sai che fanno Regà Noi se mettiamo a mangiare Io vi saluto Vi ricordo sempre Da condividere E da seguire l'assaggiatore Su tutti i social Quindi tutti quanti Regà Facebook TikTok Instagram E YouTube Grazie Pepe Valentino Vi accoglio con duetti Di pasta Carcola A prova di fegati Temerari Noi vi salutiamo Io vi venisco a mangiare Se vediamo alla prossima Belli Dai Mi raccomando Seguiteci Dai Basta Mamma mia Basta Ciao a scoppiare Basta Mamma mia Ciao a scoppiare Sì Sono andato Sento Bello Qua gli troviamo il posto Piano piano Io lo troviamo il posto Piano piano Ti dammi su Buono Buono Ce l'hai presente il cane? Io faccio tipo quello Se mi metti una cosa La mangiata davanti Pure che sto pieno Rimagno Sta cosa è buona Tutti fatti al momento Questo è col caramello Oh mazza che buona sta cosa E' sbriciolata Ha capito sì Sbriciolata